SIGLA Sai chi è Enzo Conti? Sammy l'ha menzionato un paio di volte. Ha 61 anni, mafioso vecchio stampo. Ha gestito Barclay Mills per decenni. Ha iniziato con le estorsioni alla ferrovia, poi è passato ai rifiuti industriali. Tutto l'equipaggiamento edile pesante i rifornimenti per il casino, acciaio, stampi in cemento, roba simile, è stato trasportato con i treni di Enzo. Tutta quella roba deve valere milioni. Enzo non l'avrà ceduta al primo tipo che passa. Marcano è un criminale, quindi deve avere un socio, qualcuno in regola. Se ce l'ha, è nascosto molto bene. Ho esaminato i documenti, un cazzo di labirinto. Quindi dobbiamo costringere Enzo a dirci chi è. Secondo le mie fonti, Enzo non è molto contento del casino. Pensa che chiunque non sia salmarcano finirà col farsi fottere. Forse basterà farlo passare dalla nostra. Dovrai metterlo sotto pressione, ma vale la pena provare. È ancora coinvolto con la ferrovia e deve pur mettere quei rifiuti tossici da qualche parte. Comincerei da là. Dopo avergli tolto il quartiere, gli telefono dal motel e gli offro una via d'uscita. E se dovesse fallire, puoi sempre fargli un boia di Hanoi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.